Si potrà risparmiare sulla spesa e allo stesso tempo salvare del cibo che altrimenti andrebbe buttato? Io ci ho provato mangiando per un mese intero con Too Good To Go. Appropinquiiamoci al tavolo più vicino e godiamoci questa sofisticata ma ospitale tavola calda. Ciao a tutti sono Daniele e bentornati su Subri Channel. Oggi sono qua per fare una sfida. Riuscirò a mangiare per un mese intero con l'applicazione di Too Good To Go? Prima di sapere come è andata ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i prossimi video che usciranno. Beh ho voluto fare questa sfida mentre ero in giro per l'Italia quindi tra Napoli, Firenze, Venezia e poi anche a casa mia a Cuneo e beh direi uscendo parecchio dalla mia comfort zone. Uscire dalla comfort zone perché a Napoli, Venezia e ovviamente anche a Cuneo ho avuto e ho la possibilità di utilizzare frigo, congelatore e fornelli per cucinare magari quello che nella box era da riscaldare oppure cucinare direttamente mentre a Firenze non ho assolutamente avuto la possibilità di utilizzare tutto ciò e quindi anche le box sono state prese in modo mirato e studiato per evitare di buttare il cibo e soprattutto di prendere qualcosa che avrei dovuto cucinare, conservare o comunque scaldare. Beh partendo proprio da Napoli non ho patito la fame perché non avevo voglia di fare colazione con tutto il caldo che c'era e quindi mi sono fiondato nel primo locale possibile che desse una box nelle prime ore del giorno e ho trovato una pizzeria che appunto dava una box disponibile alle 12. La qualità di cibo era parecchia ma purtroppo la pizza non era molto di qualità anche perché secondo me erano prodotte da più di un giorno soprattutto quella di cui ne ho ricevuta ben tre pezzi però va bene lo stesso si faceva mangiare. Anche la seconda esperienza non è stata al massimo perché sono arrivato in questo bar che proponeva una box a 2,99 ed il titolare o comunque quello che stava alla cassa mi ha proprio detto una box di che? Quando ha realizzato che era qualcosa di cui poteva aver sentito parlare mi ha palesemente detto guarda non c'è la persona che si occupa delle box e io mi sono chiesto perché ci va qualcuno che si occupi delle box? Comunque dopo dieci minuti di attesa e qualche telefonata finalmente ha risolto la situazione e sono uscito da lì con una box contenente dei muffin dei pezzi di crostata diciamo tutto molto buono anche se mi aspettavo anche qualcosa di salato. La terza esperienza invece è stata al Carrefour e qua è stata un'esperienza veramente memorabile perché sono riuscito a prendere una box da 3,99 euro veramente ricca e piena di bevande cosa che mi mancava alcuni dolci e anche del tonno. Unica nota stonata è stata trovare un pacchetto di crostatine aperto cosa che non mi ha fatto molto piacere. Qua per la prima volta non ho preso solo del cibo sotto scadenza ma anche degli articoli danneggiati oppure mancanti come ad esempio i cornetti e le crostatine che erano state palesemente delle confezioni aperte da qualche cliente che poi le aveva lasciate lì oppure le lattine che erano palesemente cadute magari durante il trasporto. Penultima esperienza napoletana anche qui in un supermercato è stato da Todis. Purtroppo però mi ha parecchio deluso già dal mio arrivo quando non aveva idea che mi dovessero consegnare una box perché a quanto pare l'app non li aveva avvisati ma mi hanno detto di attendere all'entrata ed è arrivato poco dopo con un pacchetto contenente due pezzi di carne. Per carità anche buoni ma solo due pezzi di carne e ovviamente con scadenza il giorno stesso quindi da consumare velocemente meno male che avevo il congelatore. Come prezzo era corretto box da 3,99 invece di 15 e i due pezzi di carne erano a 6,91 ma uno dei due l'ho dovuto appunto congelare consumare il giorno successivo. Ultima esperienza veramente fantastica invece è stata alla pizzeria dell'angelo posto consigliato da un mio amico per la pizza con il cornicione ripieno ed in effetti la qualità era super per 3,99 ho ricevuto due pizze intere molto molto buone. Attenzione però perché non è andato tutto bene piccola esperienza negativa a Napoli. Ho ordinato una box da un negozio che mi avrebbe dato anche frutte verdura macedonie e tante altre cose buone ma poco prima del ritiro mi arriva una notifica per l'annullamento con scritto che per chiarimenti avrei dovuto contattare l'assistenza. Quindi contatto immediatamente l'assistenza la quale mi spiega che il negoziante ha annullato a causa di impossibilità di soddisfare l'ordine e per scusarsi per il disagio mi hanno addirittura creato un buono regalo di 4,99 da spendere però in un'unica volta. Beh giusto per una box gratis nelle prossime città. Per me non era assolutamente un problema. A Napoli ho speso 23,94 avanzando anche del cibo infatti mi sono avanzate delle scatolette di tonno per la tappa successiva Firenze. Infatti una volta arrivato a Firenze mi sono messo alla ricerca di esercizi commerciali su Togo Togo e ho scoperto che c'erano dei Carrefour oltretutto vicino a dove avevo la sistemazione per la notte. Quindi ne ho subito ordinato uno anche chiedendo per favore se potevano alimenti non da cucinare. Sono stati gentilissimi a fornirmi tutti alimenti che non dovevano essere cucinati ma tenuti in frigo e in qualche modo mi sono arrangiato. Beh che ve lo dico a fare una gran bella box 3,99 che ha coperto addirittura tre pasti tra la cena, la colazione ed anche il pranzo del giorno successivo. A Firenze per la prima volta ho anche avuto l'occasione di fare un regalo grazie alla box del Carrefour con Too Good To Go perché la salsa cocktail non avrei proprio avuto modo di consumarla. L'ho messa quindi il regalo sul marketplace di Facebook indicando la data di scadenza e una signora è venuta a ritirarla perché sia lei che a tutta la famiglia quella salsa piace tantissimo. Ovviamente segnalando la data di scadenza non ci sono stati problemi, lei l'ha presa, mi ha ringraziato ed era molto contenta. Subito dopo però è arrivata la volta della box gratuita perché ho trovato a pochi passi dal mio affittacamere un ristorantino con una box a 4,99 che proponeva primi piatti, secondi piatti e anche dolci quindi l'ho subito prenotata. Beh che dire per 4,99 non ne sono assolutamente rimasto deluso, un piatto di riso con un secondo mi sono bastati per la cena insieme ad un panino più un cornetto per la colazione del giorno dopo e ben due panini con cui ho fatto pranzo sempre il giorno successivo. Qui però arriva anche la brutta esperienza di Firenze perché ho voluto provare una box molto economica di una catena che aveva vendita vicino alla stazione. Nella descrizione avevo letto che si potevano trovare sia articoli dolci che articoli salati e sono andato a ritirare la box convinto che avrei trovato qualcosa di interessante ma al mio arrivo ho notato un vassoio con 6 brioche e mancando un quarto d'ora alla chiusura ho temuto il peggio e infatti mi è toccato tutto il vassoio intero pieno di brioche che sì erano anche buone però il problema è che erano 6 brioche di cui una alla crema e 5 tutte al cioccolato. Ma a pranzo mi sono rifatto perché ho notato un panettiere molto quotato che proponeva una box a 2,99 anche se c'era la finestra di ritiro molto molto corta la più corta che io abbia mai visto mi sono fiondato e ho ritirato una box e devo dire molto interessante. C'era un bel pezzo enorme di pane semplice ma anche del pan focaccia e tantissimi panini piccoli in più c'era un pezzo di focaccia farcita e uno con pomodorini più alcune focaccette con delle olive e alcuni cornetti dolci. La mia valutazione per questo posto è stata assolutamente a 5 stelle molto soddisfatto sia per la quantità ma anche per la qualità del cibo. Beh avevo l'occasione di prenderla anche il giorno successivo sarebbe probabilmente stata la mia ultima box di Firenze ma ho voluto cambiare ho voluto provare un'altra panetteria sempre ben quotata e assolutamente non mi ha deluso. Oltre a non deludermi mi ha anche stupito per l'organizzazione perché alle 7 48 di mattina mi è arrivato un sms ed una mail con scritto che l'orario di ritiro della box sarebbe cambiato e se per me fosse stato un problema avrei potuto contattare l'assistenza e avrebbero trovato una soluzione. Non so di che tipo ma per me assolutamente non c'erano problemi. Mi sono quindi recato all'orario stabilito. Beh che dire negozio veramente carino perché oltre alla classica panetteria è anche un mini market. La box quindi è stata veramente ricca tra pane e pizzette ben tre dolci assolutamente apprezzata e come prevedevo mi è bastata per due giorni e mezzo visto che ci ho fatto colazione anche il giorno della partenza per Venezia spendendo quindi in tutto per Firenze 12 euro e 96. Ma proprio di Venezia vi devo parlare perché come tutti sappiamo è una città molto cara e quindi non ho potuto prendere una sistemazione al centro di Venezia. L'ho preso infatti in zona mestre e mi sono reso conto che nella mia zona non c'erano tante possibilità con Too Good To Go tante invece si concentravano verso il centro di Venezia. Ho quindi dovuto fare due ricerche separate una in zona mestre e una in zona centro Venezia. Appena arrivato quindi mi sono fiondato nella zona centrale scoprendo un bar con il servizio di Too Good To Go appena uscito dalla stazione di Santa Lucia con una box a 4 euro e 99. Vedendo i prezzi del locale mi sono spaventato di ricevere al massimo un paio di panini e niente più. In realtà preso dal frigo un vassoio pieno di tramezzini ce n'erano in tutto sei molto farciti e me li ha dati tutti quanti. Come quantità assolutamente ottimale come qualità un po' mi ha lasciato a desiderare non perché i panini fossero cattivi oppure fossero vecchi proprio perché tanto conditi tanto farciti anche con delle salse e sono stati abbastanza pesanti da mangiare. Infatti li ho divisi in due pasti. Dividendoli in due pasti quindi ho voluto provare un altro bar sempre nella zona centrale con una box piccola da 2 euro e 99 però mi ha un po' deluso onestamente perché mi ha dato due sacchetti con apparentemente tanta roba ma i crostini li ho mangiati pressoché subito e mi hanno riempito poco e niente anche se erano molto buoni. Poi c'erano degli spiedini con il pesce che invece avevano un sapore abbastanza cattivo per i miei gusti ed infine un pazzerotto che onestamente era la cosa più buona. Ho deciso quindi per il giorno successivo di ricercare un supermercato memore delle belle esperienze di Firenze anche perché ero un po' preoccupato. Eravamo solo a lunedì e avevo già speso un sacco di soldi e ho trovato un pam con una box a 4,99 nella zona di Mestre. Box che mi ha fatto veramente piacere perché era anche ricca di frutta e verdura. Infatti conteneva un sacco di albicocche, insalata, pomodori e anche carne. Qua ne sono stato veramente soddisfatto. Volendo però integrare anche con qualche carboidrato ho trovato poco distante una specie di bar pub bistro con una box da 2,99 euro ma lasciatemelo dire valeva anche meno di 2,99 euro. Dentro infatti ho trovato qualche brioche di cui una piccola vuota e anche una grossa purtroppo vuota. Una al cioccolato e forse l'unica cosa degna di nota ovvero il krafen. C'erano anche un paio di tramezzini ma non ne valevano assolutamente la pena perché il gusto era veramente pessimo. Però mi ha permesso di integrare la spesa del pam cosa che mi ha anche permesso di fare un localino in centro con una box da 3,99 euro che mi ha parecchio soddisfatto perché dentro c'era un pezzo di pizza e due arrotolati belli sostanziosi. Arrivato però verso la fine del soggiorno di Venezia ho dovuto ben calcolare che cosa fare per evitare di portare cibo deperibile in viaggio. Ho quindi trovato un bar che per 3,99 euro mi ha fornito una box molto interessante con tre panini, due brioche con la marmellata e due crostatine con la crema. In ultimo però mi sono reso conto che ero un po' corto di cibo e quindi ho voluto prenotare l'ultima box di Venezia però ero anche molto stretto con i tempi infatti sono arrivato circa alle 19.50 in un posto in cui la box sarebbe scaduta alle 20 e ho chiesto se quindi fosse ancora disponibile e se la potessi prenotare con l'app e la risposta del cameriere mi ha veramente stupito. La box costava 4,99 euro ma non me l'ha fatta prenotare tramite app mi ha fatto pagare direttamente sul posto i 4,99 euro dicendomi che se avessi avuto bisogno i prossimi giorni avrei potuto andare a prendere la box senza prenotarla tramite l'app beh comunque per 5 euro mi ha dato tre bei pezzi di pizza un po' di verdure grigliate delle patate quattro olive scolane una polpetta e per finire una buona ciambella. La mia avventura a Venezia quindi termina qua con una spesa totale di 28,94 euro e beh direi che la città dove ho speso di più e anzi avrei potuto anche spendere qualcosina in più ma la ragazza che viveva con me era sotto partenza e non ha potuto consumare delle brioche e visto che le ho dato una mano per alcune cose di cui aveva bisogno mi ha gentilmente regalato le brioche che non avrebbe comunque consumato quindi beh ho avuto un regalo dall'altra parte avrei comunque potuto non fare quelle colazioni o comunque mangiare quelle brioche quindi chissà comunque ho speso veramente tanto in confronto alle altre città ma è stato il momento di partire per Cuneo quindi decisamente comodo essendo a casa mia con la possibilità di utilizzare frigo congelatore e fornelli in un ambiente a me familiare con un grosso ma ovvero la quantità di box che avrei potuto trovare perché Cuneo è una città molto piccola in confronto a Napoli Venezia e anche Firenze e quindi ho impostato una ricerca di raggio a 15 chilometri ovviamente con la possibilità di utilizzare la macchina per andare a ritirare le box. La mia prima esperienza è stata in un locale nella periferia di Cuneo con una box da 3,99€ ritirata ad ora di pranzo ed ero tutto contento perché questo è un locale che fa ristorante infatti c'era scritto che c'era la possibilità di trovare piatti pronti, primi piatti, secondi piatti e quant'altro e invece no. Nella box ho trovato brioche e anche delle brioche ed ancora delle brioche in tutto 6 brioche più una bottiglia d'acqua piccola e una bottiglia di coca cola grande con scadenza a fine anno. Parliamoci chiaro prodotti graditissimi che ho messo in congelatore e mi ha permesso di fare colazione le mattine successive però il problema è perché quindi non scrivere che dai solo brioche anche perché le box si potevano ritirare sempre solo a pranzo l'orario era sempre solo quello di pranzo sono passato i giorni successivi per dare solo un'occhiata senza prendere altre box e c'erano sempre le brioche avanzate. Inutile illudere le persone dicendo che ci sono piatti pronti i primi piatti e poi si danno solo delle brioche no? Sempre guardando l'applicazione la domenica sera per il lunedì ho trovato un locale ad una decina di chilometri da casa box sempre a 3,99 euro ed onestamente ho voluto provare il posto giusto per il nome che mi sembrava di buon auspicio. Ho voluto rischiare prendendo più box nello stesso giorno proprio perché avendo frigo e congelatore a disposizione ho pensato di poter comunque consumare gli alimenti non subito ma anche nei giorni successivi e direi che ho fatto bene perché altrimenti avrei mangiato per un giorno solo brioche visto quello che ho trovato la mattina e soprattutto visto la penuria di box che c'erano proprio la domenica. In questa ho trovato due bei pezzi di focaccia, tre pezzoni di pollo ed un'insalatina da mangiare fredda con pollo e verdure. Poi lunedì mattina è comparso un carrefour a 10 minuti da casa e come non sfruttare questa occasione? Del resto come abbiamo visto i supermercati sono sempre una miniera d'oro per too good to go e avendo frigo e congelatore nulla sarebbe andato sprecato. In questa box da 3,99 euro ho trovato ben due pacchi di pasta da un chilo con confezione visibilmente danneggiata, delle piadine da consumare subito, del formaggio con scadenza dopo due giorni, delle alici marinate e del patè di tonno con scadenza il giorno successivo ma anche dei taramezzini di carne e formaggio. Beh che dire quindi anche questo supermercato non mi ha assolutamente deluso e mi ha permesso di andare avanti fino a giovedì ma comunque mercoledì ho voluto prendere una box da uno store di frutta e verdura. Anche questo store purtroppo un po' fuori mano e per la box ho speso 3,99 euro. Come valutazione era buona per la grande quantità di cibo ed in effetti dentro c'erano dei funghi, diverse banane, due broccoli, un finocchio e delle zucchine e per finire anche quattro yogurt. Purtroppo gli yogurt avevano la data di scadenza del giorno stesso quindi impossibile mangiare quattro yogurt. Sarebbero comunque stati buoni giorni successivi ma avrei comunque preferito piuttosto aver trovato dentro dell'altro. Quegli yogurt sarebbero andati bene magari il giorno precedente in un'altra box. Comunque ho voluto provare un altro store di frutta e verdura vicino a casa con una box a soli 2,99 euro proprio per vedere quello che avrei trovato all'interno. Beh lasciatemelo dire veramente soddisfatto a partire dalla box e il suo contenuto ma anche la gentilezza della proprietaria e anche il negozietto veramente carino e sono anche riuscito a scoprire delle informazioni molto interessanti. Partendo dalla box questa volta sono riuscito a prendere dei taralli che arrivano direttamente dalla Puglia, due brioche come se non ne avessi già abbastanza, quattro bei pomodori a chilometro zero raccolti quella mattina, un finocchio, due bei pezzi di pizza e della ricotta fresca. Beh che dire assolutamente soddisfatto per 2,99 euro tutta quella roba è per giunta fresca assolutamente store da 5 stelle e ne usufruirò anche i prossimi mesi se ci saranno di nuovo delle box. Soprattutto come vi dicevo ho ottenuto delle informazioni molto interessanti dalla simpaticissima proprietaria. Mi ha detto che Too Good To Go attiverà un servizio che permetterà di ricevere delle box dalla grande distribuzione quindi degli alimenti sotto scadenza che arrivano direttamente dai supermercati e i negozianti che accetteranno di fare da tramite avranno queste box disponibili e le consegneranno ai clienti che le ordineranno. Non sapeva dirmi di più sul servizio ma sicuramente è molto interessante. Essendo facoltativa ovviamente questa adesione da parte dei negozianti non so quali negozianti ne faranno parte e come si farà scoprire se si possono far arrivare o meno delle box nella nostra zona. Comunque lei ha accettato e ha dato la sua disponibilità. Io lo proverò e ve ne parlerò sicuramente su Instagram. Ma il punto è quanto ho speso a Cuneo? La cifra totale di spesa a Cuneo è stata di 18,95 euro. Non la città più economica perché ovviamente è stata a Firenze. Sì c'era anche la box in regalo ma senza box in regalo avrei speso comunque sui 17 euro e direi che comunque mi sono ricreduto perché nella mia zona alla fine si trovano tante box ovviamente girando un po' non nelle immediate vicinanze. Comunque molto buone dai prodotti molto vari. Quindi direi esperimento riuscito. Beh ovviamente ho incontrato delle difficoltà a partire dall'orario in cui trovare le box. Non ho trovato nessuna box nei posti in cui dove sono stato perlomeno nelle prime ore del giorno. Tutte box a partire da mezzogiorno l'una in poi. E poi diciamo che purtroppo è un peccato per quegli store che danno cibo chiamiamolo monotematico come ad esempio la catena oppure il ristorante che mi ha dato 6 brioche. Ovviamente essendo a casa 6 brioche si possono mettere in congelatore e consumare nei giorni successivi. Però quanto ho speso in tutto questo mese con Too Good To Go? 84,79 euro. Beh sì c'è stata anche la box regalata quindi se la vogliamo aggiungere al conteggio sarebbero comunque stati 89,78 per mangiare un mese intero in giro per l'Italia. Direi quindi esperimento super riuscito salvando anche tanto cibo che altrimenti sarebbe andato sprecato. Ehi il video non è finito qua. Qui la ti troverete l'ultimo video caricato e uno consigliato direttamente da YouTube mentre qui al centro il tasto per l'iscrizione. Non dimenticatevi che in descrizione ci sono tutti i link ai miei social network. Il prossimo appuntamento venerdì alle 14.